Si conclude la prima settimana di immobilismo sull'evoluzione del cantiere del vecchio Palas Pordi Viale dei Partigiani, futuro Auditorium Palas Cavolini. Venerdì scorso la verifica di carabinieri e ispettorato del lavoro ha rilevato gravi irregolarità in merito alla sicurezza dei ponteggi e all'inosservanza delle misure anti-Covid. Un controllo che costato tre denunce e un'ammenda di 70.000 euro. Forti le critiche da parte di Fratelli d'Italia verso una amministrazione comunale rea a loro dire di mancati controlli. Una settimana dopo il comune che la stazione appaltante difende piuttosto la serietà dell'impresa di costruzioni che si sta attivando in vista del prossimo controllo che presumibilmente darà l'ok alla ripartenza del cantiere. Vuol dire che quel cantiere aveva già avuto altre verifiche ed erano andate bene. Ovviamente può succedere un piccolo inciampo a chi lavora e c'è stato un controllo dei carabinieri e ispettorato del lavoro che ringraziamo perché è un momento dove ci sono decine e decine di cantieri in città e la vita umana vale più di tante altre cose. Quindi è giusto che ci siano questi controlli e ringraziamo chi li fa. Rispetto al cantiere del Palazzo dello Sport è un cantiere difficile, la ditta si è dimostrata seria, ovviamente può succedere un inciampo, loro si stanno attivando per ripristinare le condizioni di sicurezza, quelle che gli sono state rilevate nel controllo, contiamo che nel giro di qualche giorno riusciranno a terminare i lavori, poi ritornerà di nuovo il controllo per dare il via ai lavori veri e propri.